Buongiorno, ho domani, ho domani, credo dopo le 8, perché c'è l'auto solo a lavoro. Lo sa che fosse dopo le 8, perché c'è l'auto solo a lavoro. E allora tu ci raggiungi un chiesa? Certo. Giorgio, ma lo vuoi fare a mente? No, io, no. Mai lì. No. Dovrebbe essere due. Però non ho idea del campo. Allora, Marco, tu che sei il capo finito? Guarda, Marco, non sto ascoltando, guarda. Stai ascoltando. Non ho detto, quello che dovessi, che c'era tanto la musica? Se non va bene? No. Ma peggio. Chi è? Brava, hai visto? Ciao.